Tra le tante lettere che troviamo nella nostra cassetta della posta in questi giorni fino a domani potrebbe esserci anche quella che ci avvisa di essere stati selezionati nel campione di famiglie siracusane che riceveranno la visita di un rilevatore Istat. Dal lunedì scorso è infatti partito ufficialmente il censimento della popolazione delle abitazioni cosa che da quest'anno verrà effettuata annualmente. Questa novità permetterà anche di risparmiare sui costi visto che i rilevatori sono stati reclutati tra i dipendenti comunali opportunamente formati a cura delle singole prefetture. I questionari ci saranno consegnati da mercoledì al 9 novembre a cura dei rilevatori quali per qualificarsi e distinguersi dai vari venditori che si presentano a casa saranno dotati di apposito tesserino di riconoscimento con tanto di foto e timbro del comune di Siracusa e Logo Istat. Dal 10 al 23 novembre torneranno per il ritiro. Su scala nazionale le famiglie scelte a campione sono circa 1.400.000 residenti in 2.800 comuni. Integrando i dati raccolti nei questionari la cui compilazione è obbligatoria con le informazioni fornite dai singoli comuni il censimento permanente consentirà di elaborare un quadro sulla situazione annuale della popolazione. Grazie a tutti.